Oggi ragazzi mod 21700 Bene ragazzi ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Sant'Ono dello Svapo Oggi vi parlo della T-Rex di Tesla Sig Pod mod IO con tank super capiente 21700 montata all'interno Ora andiamo a vedere da vicino Poi prova di svapo e considerazioni finali Ecco il T-Rex kit 21700 di Tesla Sig Da 7 a 95 watt Pod 6 ml di capacità Display OLED da 0,96 pollici Tasto a ruota Si carica facilmente A prova di bambino Aria regolabile E presa USB tipo C Sul retro della scatola leggiamo Un elenco del contenuto Un'avvertenza I social di Tesla Sig Vari marchi Dove è stata costruita Scratch and check Con codice barre QR code Aprendo la scatola troviamo subito questo pacchetto Che contiene il manuale utente Inoltre all'interno ha l'avvertenza sullo stato delle batterie E il certificato di controllo qualità Nel manuale utente ragazzi c'è anche la lingua italiana E vi viene spiegato per filo e per segno tutto il funzionamento Quindi leggetelo mi raccomando Inoltre andiamo sulle specifiche 25.3 x 35.3 x 125 mm Monta batterie 21700 non comprese Peso 100 grammi Modalità sia automatica Automatica power Oppure push mode E la capacità della pod è da 6,5 ml per il mercato americano Oppure 2 per quello europeo Quindi qui abbiamo il cavo usb usb c Qui abbiamo la pod Una resistenza in più E la box La resistenza in più è da 0.3 ohm da 20 a 35 watt Mentre quella installata nella pod è 0.16 ohm da 40 a 55 watt Partiamo subito guardando la pod Al di sotto abbiamo i magneti Il foro dove andare ad inserire La resistenza Resistenza che non ha verso Quindi la potete mettere su come volete E per andare ad aprire vedete che qui abbiamo un'istruzione Bisogna premere in basso E girare in questo modo Dal di qui andremo a fare la ricarica E questo qui ragazzi è il camino Di qua inoltre possiamo vedere questo gommino Che andrà a chiudere il nostro foro di ricarica Ora io prendo il croccantissimo caramelle Vado a caricare Una volta caricato Andate a richiudere E girate nuovamente Il tip Quando richiudete il tip State ben attenti Che faccia questo click Così è chiuso correttamente Se lo chiudete Come avevo fatto io prima Ragazzi vi si apre Veniamo ora alla box Contenuta all'interno di questa plastica Che serve per proteggere la scocca La box è totalmente in metallo Perlomeno per quanto riguarda l'esterno E qui ragazzi Vediamo subito Due pin E tutti i magneti Inoltre c'è il forellino Per l'automatismo Andiamo subito a montare la pod I magneti tirano molto bene E di sicuro questa non verrà via La finitura è interessante Anche bella Vi dico la verità Il pulsante Dà un buon senso di solidità Vi dico la verità Da questa parte invece vediamo Il selettore per l'aria Vedete che con questo Potete andare a parzializzare Queste asole Al di sotto abbiamo lo sportellino Con il marchio CE Il simbolo dello smaltimento E la scritta Designed by Tesla SIG Inoltre abbiamo la presa USB-C Ora vado ad aprire lo sportellino Possiamo vedere subito Il pin con il simbolo meno Abbiamo un tappino morbido E una sleeve interna Per adattare le 18650 Al foro della batteria Ma siccome noi abbiamo l'umiltè Ci mettiamo le 21700 E andiamo a chiudere Il display si accende Parte la scritta T-REX Bel display Con scritta Tesla SIG In alto La prima cosa che vediamo Sembra il contapaff Poi abbiamo il tempo I watt Gli ohm E i volt Inoltre qui è specificato Il modo che è Automatic and power Al di sotto ragazzi C'è anche l'indicazione Di carica residua Della batteria Premendo tre volte Entriamo all'interno del menu E vedete che girando la rotellina Possiamo andare a cambiare Le nostre voci E a scegliere Quello che preferiamo Cambiamo l'output Vedete qui possiamo scegliere Se vattaggio variabile Bypass Oppure Do it yourself Io otterrò vattaggio variabile Andiamo in fire mode Qui possiamo scegliere Auto and push Oppure solo push Oppure auto Primo ho detto power Ma perdonatemi Mi sono sbagliato Effettivamente è push Io andrò in auto In push comunque Qui potete cambiare Colore All'interfaccia Ma io la terrò verde Ragazzi Qui resettate il contapaff E qui uscite Estremamente semplice Ragazzi Da utilizzare Veramente Intuitiva Comoda Anche la ghiera E comodo Questo scasso Che vi dà L'opportunità Di usarla Con il pollice Quindi ora ragazzi Mi vado a mettere A 35 Anzi A 40 watt Che è il minimo Per questa resistenza Con due click veloci Bloccate La ghiera Ok Quindi non andate più Né avanti Né indietro Con i watt E con due click veloci La sbloccate Per spegnere la box Cinque click Quindi ragazzi Questo è tutto Per quanto riguarda L'hardware E le sue funzionalità Ora andiamo Alla prova di svapo E alle considerazioni finali Burdel Vi dirò che Il prodotto È assolutamente Notevole Buono Bello Fatto bene 21700 Quindi avete un botto Di batteria Avete un tank Estremamente capiente Avete un display Facile da interpretare E tra l'altro Di facilissima navigazione Ma Non sono tutti pro L'unico neo Reale Che ho trovato Qual è? È che L'ariosità comunque Rimane sempre Da un flavor Un po' Tirante al chiuso Ok Non un restricted Ma non è un flavor Particolarmente aperto Per andare ad attivare Con l'automatismo Dovete Tirare parecchio Avete sentito Il richiamo Per I cardellini Come si chiamano O per i cani O per gli uccellini Proprio a un certo punto No adesso non l'ho preso Ma Se tirate come dovete Sentite che Arriva la fauna Campestre Vicino a voi Diventate San Francesco Praticamente Ma a parte quello Ragazzi Che è sorvolabile Nonostante metta Comunque un ultrasuono Interessante Dovete tirare un po' troppo E questa diventa Una cannuccia Quindi L'automatico Anche no Vi dico la verità Non mi piace Cioè proprio quello Fate finta che non ci sia Perché dovete tirar Veramente troppo E praticamente Diventa un mangia e bevi Per non farla diventare Un mangia e bevi La usate Col suo bel bottone Che è comunque comodo Un attimo Che sono ancora un po' Tra il mangia e bevi E lo svapo Ovviamente ragazzi Il liquido è a zero Quindi non è che sto rischiando Niente Però Effettivamente Quello è un difetto Ok Quello è un difetto Non in tutti i casi Ma poteva essere fatta meglio La cosa Ok Poteva attivare un pochino prima Con una pressione Un pochino inferiore Poi tra l'altro Si va a tirare troppo Per me Per come deve essere utilizzato Questo dispositivo Inchiamerate tropp'aria Perdete un po' di aroma Cioè La sua morte Usate sto dito E fatela partire Usata così ragazzi Funziona da dio Lit è buono Il vapore C'è Tanto Leggermente Tendente al secco Per quello che può essere Comunque ragazzi Un flavor Quindi non è che È un vapore Realmente secco Ma più secco Rispetto ad altre resistenze Però tutto sommato Ragazzi Il prodotto Si stradifende Funziona veramente Molto bene Io lo mando a casa Con un 9 Ok Tra l'8 e il 9 Dai Gli lascio un po' Di beneficio Il dubbio Che non si sa mai Che qualcosa succeda Però ragazzi È una roba Che funziona Fondamentalmente Da dio L'unico difetto Che ha È l'automatismo Che effettivamente Non è Calibrato Dal mio punto di vista Al top Con l'aroma Con la quantità di aria Che va all'interno Del tiro Eccetera Eccetera Però il dispositivo È ottimo Grandissima Capacità di batteria Un peso irrisorio Sono 100 grammi Senza la batteria Quindi il peso Lo fa la batteria Fondamentalmente La 21700 O la 18650 Perché va Con due batterie Però onestamente La 18650 Qui dentro Per me è inutile Perché avete Un dispositivo Molto grande Per una 18650 Invece La dimensione Viene giustificata Con una 21700 E ovviamente Con una quantità Di mAh Molto più alta Rispetto a una 18650 Però ragazzi È un bagaglio Che Tra l'8 e il 9 Se lo prende Ok Non prende 10 Proprio per quel problema Interessante La storia Childproof Ok Comoda Mi raccomando Fategli fare Il click Basta Io Direi che non ho Nient'altro da dire A me il prodotto Piace Voi fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Se vi piace Non vi piace L'avete provato Non l'avete provato E basta ragazzi Io vi saluto Come al solito Con l'ultima svappata Buon 2021 A tutti Sperando Sperando Ci siamo già capiti E che lo svappo Sia con voi Ciao ragazzi Ukraine Nielsen Tone Delos Sperando 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 Sperando